ehi voi dove state andando? alle ore della casa venite con noi, faremo conoscere un luogo meraviglioso dove la natura ha dato il meglio di sé sono le gole della Scantra, una riserva naturale che si trova a pochi chilometri da Randazzo, la sede del nostro istituto grazie 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 E bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está l'amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, cintura besito, mi fruta de la pasión Me acerco a ti, bailamos, juguemos, eh, acercate, oh Le gole dell'Alcantara è uno spettacolo unico al mondo La riserva delle gole dell'Alcantara è un luogo imperdibile, meraviglioso Qui si trovano gole alte fino a 25 metri, che sono dei veri e propri canyon originati da colate laviche Solcate al centro delle acque gelide del fiume La riserva delle attività che si possono svolgere qua le gole dell'Alcantara Ad esempio abbiamo trekking, passegge naturalistiche, passegge rilassanti con degli esperti, quindi delle guide Grazie Guardate, questa acqua gelida e la frescura della vegetazione costituiscono un refrigerio e un'alternativa al calore estivo Grazie Grazie La riserva che si può svolgere qua le gole del fiume Alcantara E' una riserva naturale sul fiume Alcantara, qui la natura è prudente e tutti i lati unità sono svolte nel pieno rispetto dell'ambiente e delle emolazioni locali Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti